Ciao a tutti amici e ben ritrovati su Pausa Caffè. Allora, si torna a parlare, e lo si fa sempre più frequentemente, di questo benedetto Grande Fratello VIP, edizione 8, che sarà molto presto alle porte, quindi anche se manca un po' effettivamente all'inaugurazione della nuova casa, si parla sempre di più del Grande Fratello VIP. Perché? Questo perché pare che Pier Silvio Berlusconi in persona sia sceso in campo per poter arginare un attimino la deriva che si era creata, la deriva trash, che ultimamente ha interessato alcuni dei programmi di punta Mediaset. In mezzo a questi, anche il reality show che sarà guidato da Alfonso Signorini, come al solito, e ci sarebbe anche già un'esclusione, a prescindere, e infatti riporta al sito fanpage che dice che gli autori in queste settimane stanno comunque selezionando il cast, si stanno dando da fare per questo GF VIP, e quello della pupa al secchione anche, e starebbero applicando due regole ben precise. I due pilastri a cui attenersi sarebbero, no influencer e no only fans, ci fa sapere una fonte. In particolare, nella casa, e soprattutto tra i concorrenti sconosciuti, non sarebbero ben accetti i personaggi nati sui social, mentre per quanto riguarda la pupa e il secchione, non sarebbero ammessi concorrenti che abbiano un profilo su only fans. Ma ci sarebbero anche già due nomi in pole position nel ruolo di Vipone per volere di Pier Silvio Berlusconi. Secondo indiscrezioni, per ora non confermate, i due nomi scelti sarebbero quelli di Giustine Matera e di Fiordaliso. Tra gli altri, invece, sarebbe sceso il vetto sull'ex senatore Antonio Razzi, la cui firma era data ad un passo scatenando, tra l'altro, la reazione del pubblico che non vedeva l'ora di vederlo all'opera. Una nuova indiscrezione arriva in queste ore da Amedeo Venza, secondo cui la figlia Vip avrebbe sostenuto il primo colloquio con gli autori del GF Vip, anche la figlia di Gwendalina Tavassi ha fatto il colloquio per il GF. Se la pera non cade mai lontano dall'albero non vedo un miglioramento. Avvisate subito Pier Silvio! Lei è Gaia Nicolini, 19 anni, e maggiore dei figli della Tavassi, già concorrente del GF. Nonostante sia giovanissima, è nota sui social e a settembre dello scorso anno è arrivata alle prefinali di Miss Italia con la fascia di Miss Cinema Roma. Non ha mai nascosto il desiderio di diventare un'attrice e certamente l'esperienza al reality potrebbe essere un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo. Ma nel dare la notizia l'esperto di gossip sottolinea come questa scelta, sempre che ci sia stata, non sia proprio in linea con quanto chiesto da Pier Silvio Berlusconi. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.